la predizione dell'astrologo anonimo reginald unico erede dell'illustre famiglia dei di i venomi si distinse fin dalla più tenera età per un'indole sfrenata ed estrosa si diceva in giro che suo padre fosse morto in preda una follia ereditaria e suoi amici nel notare la misteriosa e vivida intelligenza del suo sguardo e la risoluta energia del suo aspetto spesso asserivano che la terribile malattia si annidava anche nelle vene del giovane reginald stessero così le cose oppure no di certo il suo modo di vivere era fin troppo mal congegnato per estirpare i sintomi della follia rimasto in tenera età sotto la custodia della madre che dalla morte del marito viveva nella più rigida reclusione non fece che scarsissime esperienze di cose che potessero distrarre o ravvivare la sua attenzione il tetro castello in cui risiedeva si trovava in scozia ai confini con la foresta nera era una dimora isolata costruita secondo la moda nel più cupo stile d'architettura gotica a una certa distanza sorgevano le rovine del castello di rudstein un tempo celebre ma di cui ora non rimaneva che una torre cadente oltre la quale il paesaggio finiva con le ombre profonde e gli impenetrabili recessi della foresta nera in un tal posto era relegata la giovinezza di reginald ma la sua solitudine doveva essere presto alleviata dall'arrivo di un vicino inatteso il giorno del compimento del suo diciottesimo compleanno un vecchio apparentemente consumato dall'età e dagli l'azzacchi elesse la propria dimora nella cadente torre di rudstein di rado usciva durante il giorno e dalla singolare circostanza di una lanterna perennemente accesa nella torre gli abitanti del villaggio giunsero alla conclusione piuttosto inevitabile che si trattasse di un emissario del diavolo questa diceria ebbe presto ampia diffusione e avendo infine raggiunto le orecchie di reginald per tramite di un giardiniare pettegolo ne risvegliò la curiosità il giovane risolse dunque di portarsi alla presenza del saggio per accertare le ragioni della sua misteriosa reclusione mosso da questa risoluzione lasciò improvvisamente il castello della madre e indirizzò i passi verso la torre in rovina che scergeva una trascurabile distanza dai suoi possedimenti era una notte buia e lo spirito della tempesta sembrava viaggiare sulle ali del vento mentre l'orologio della chiesa del villaggio batteva la mezzanotte e salendo la scalinata consunta dal tempo che scricchiolava ad ogni suo passo arrivò con una certa fatica fino alle stanze del filosofo la porta era spalancata e il vecchio sedeva accanto alla finestra chiusa da una grata il suo aspetto era impressionante una lunga barba bianca dipendeva dal mento e il suo debole corpo sosteneva a fatica un cannocchiale puntato verso il cielo sul pavimento erano sparsi disordinatamente libri scritti nei caratteri sconosciuti della cabala e sul tavolo era appoggiato un vaso dall'abastro che ricava inciso il segno dello zodiaco con tutti intorno lettere misteriose l'astrologo indossava un vestito di velluto nero ricamato in oro e con una fascia argentina in vita i suoi riccioli sottili ricadevano fluenti nel vento e la mano destra stringeva una bacchetta ad ebano nel vedere lo sconosciuto si alzò e rivolse uno sguardo attento al viso ansioso di reginald figlio di cattive stelle esclamò in tono cupo vieni a spiare i segreti del futuro evitami per la tua vita o per ciò che è più caro la tua eterna felicità perché io ti dico reginald deve nomi meglio sarebbe che tu non fossi mai nato che consentirti di segnare la tua rovina in un luogo che quando giungerà l'ora assisterà alla tua caduta l'espressione dell'astrologo nel pronunciare queste parole era terribile ed esse risuonarono nelle orecchie di reginald come una campana a morto sono innocente padre rispose balbettando e la mia indole non sopporterà che io commetta i peccati di cui parli ah rispose il profeta l'uomo è in vero innocente fino al preciso momento della sua dannazione ma la stella del tuo destino già impallidisce nei cieli e le fortune dell'orgogliosa famiglia dei divenomi declineranno con essa guarda a ovest quel lontano pianeta che splende vivido nel cielo notturno è la stella della tua natività quando la vedrai precipitare come una meteora attraverso l'emisfero pensa alle parole del profeta e trema sarà commesso un fatto di sangue e sarai tu a perpetrarlo in quell'istante la luna fece capolino dalle nuvole grigie che indugiavano nel firmamento e diffuse sulla terra una mite luminosità a ovest brillava un'unica stella era la stella della nascita di reginald lui la fissò con occhi assorti nella fannosa intensità dell'attesa e rimase a contemplarla finché le nuvole di passaggio non ne nascogero lo splendore alla sua vista astrologo intanto aveva ripreso il suo posto accanto alla finestra sollevò il cannocchiale al cielo e il suo corpo parve preso da un tremito convulso due volte si passò la mano sulla fronte e rabbrividì nell'osservare l'aspetto del cielo non mi restano disse che pochi giorni sulla terra e poi il mio spirito dovrà conoscere l'eterno riposo della tomba la stella della mia nascita è pallida e fiocca non risplenderà mai più e il vetusto non conoscerà più requie vai proseguì scacciando reginald dalla sua vista non disturbare gli ultimi istanti di un uomo morente ritorna fra tre giorni e interra sotto le fondamenta di questa rovina il cadavere che troverai qui va via in preda a un misterioso terrore reginald non riuscì a profferire verbo rimase come in stato di trance e dopo qualche minuto si allontanò a precipizio dalla torre e ritornò inquieto al cupocastello della madre erano ormai trascorsi tre giorni e fedele alla promessa reginald si diresse nuovamente alla torre la raggiunse al calare delle tenebre ed entrò tremando nella dimora fatale all'interno regnava un silenzio totale in cui risuonava l'eco sorda dei suoi passi il vento sospirava intorno alle rovine e dalle torri scoperchiate il corvo aveva già dato inizio alla sua canzone di morte entrò astrologo era seduto come prima accanto alla finestra apparentemente assorto in profonda meditazione il cannocchiale era sistemato al suo fianco temendo di disturbare il suo riposo reginald si avvicinò con cautela il vecchio non si mosse incoraggiato da quell'inatteso silenzio si fece avanti e guardò in faccia all'astrologo ma fissò un cadavere i resti di ciò che un tempo era stata vita pietrificato dall'orrore di quella vista perse la memoria della sua precedente promessa e fuggì sconvolto da quella dimora per molti giorni la sua mente fu preda di una febbre incessante cadde di frequente in delirio in quei momenti di follia parlava di uno spirito maligno che lo aveva visitato nel sonno sua madre rimase sconvolta da tali evidenti sintomi di squilibrio ricordò il destino del marito e implorò reginald se aveva caro il suo affetto di dare sollievo viaggiando al suo spirito agitato con una certa difficoltà egli venne indotto a lasciare la casa della sua infanzia e suppliche della contessa alla fine prevalsero e reginald abbandonò il castello di di venomi per i soleggiati climi d'italia il tempo passò e una costante successione di novità aveva prodotto un tale benefico effetto che non rimaneva quasi traccia del di venomi di un tempo misterioso e travolgente di tanto in tanto la sua mente si faceva fosca e inquieta ma le ricorrenti occasioni di divertimento lo distraevano dai ricordi del passato e lo calmavano quel tanto che la sua natura rendeva possibile soggiorno all'estero per anni periodo durante il quale scrisse sovente a sua madre che era rimasta al castello annunciandole infine la propria intenzione di stabilirsi a venezia era in città solo da pochi mesi quando nell'allegro periodo del carnevale gli venne presentata in quanto nobile straniero la bella figlia del doge era una giovane amabile raffinata e dotata di requisiti tali da assicurare un'eterna felicità reginald era incantato dalla sua bellezza e affascinato dall'eccellente qualità del suo animo le confessò la propria inclinazione e con una vampata di rossore venne informato della reciprocità di tale affetto non rimaneva dunque che chiederne la mano al doge il quale venne all'istante interpellato sull'argomento e implorato di acconsentire alla felicità della giovane coppia accolta la richiesta la felicità dei due innamorati fu completa il giorno fissato per le nozze una moltitudine bella ed elegante affollava il palazzo ducale di san marco tutta venezia era a corsa alla festa e in presenza dei più brillanti rappresentanti della nobiltà italiana il conte reginald di venomi ottenne la mano di marsella l'invidiata figlia del doge la sera si teneva a palazzo un ballo in maschera ma la giovane coppia ansiosa di rimanere sola fuggì dalla baldoria e si affrettò in gondola il castello che li attendeva era una bella notte di chiaro di luna i mitici raggi delle stelle scintillavano sull'argente a distesa dell'atriatico e le dolci note musicali rese più suadenti dalla distanza giungevano trasportate dalla brezza dell'ovest mille lanterne dalle piazze illuminate della città riflettevano sull'onda le loro tinte ardenti e il mitecanto dei gondolieri andava a tempo con il dolce battere dei remi i cuori dei due innamorati erano gonfi e la malia di quell'ora felice avvolgeva le loro anime d'un tratto un profondo gemito sfuggì al cuore sovraccarico di Rezinald aveva guardato l'emisfero occidentale e la stella che in quel momento splendeva luminosa all'orizzonte gli rammentò la terribile scena a cui aveva assistito nella torre di Rudestein i suoi occhi brillarono di follia e se un torrente di lacrime non fosse giunto a dargli sollievo le conseguenze sarebbero state forse fatali ma le appassionate carezze della giovane sposa riuscirono per il momento a allenire la sua agitazione e a ricondurre alla tranquillità il suo stato d'animo erano trascorsi ormai alcuni mesi dalle nozze e il cuore di Rezinald era felice aveva Marsella ed era teneramente ricambiato nulla dunque mancava alla completezza della sua felicità se non la presenza della madre la contessa di conseguenza le scrisse per supplicarla di venire a vivere con lui a Venezia ma in risposta venne informato dal di lei confessore che la contessa era gravemente malata e richiedeva l'immediata presenza del figlio appena ricevuta la mesta notizia Rezinald accorse con Marcella al castello di Venomi quando giunse la madre era ancora viva e lo avvolse con un amorevole abbraccio ma l'emozione di quell'inatteso incontro col figlio fu troppo grande per il debole spirito della donna che spirò nell'atto di stringerlo tra le brazza da quel momento la mente di Rezinald si smarrì nel più profondo sconforto seguì la madre alla tomba al ritorno dal funerale si notò che aveva un sorriso misterioso ed ambiguo il castello di di Venomia crebbe la naturale depressione del suo spirito mentre la vista della torre in rovina non mancava mai di imprimere sulla sua fronte un oscuro cipiglio per giorni vagava lontano da casa e al ritorno la malinconica espressione del suo volto preoccupava la giovane e devota moglie che faceva di tutto per lenire l'angoscia di lui ma in vano a volte quando aveva un attacco Rezinald la respingeva furioso ma nei momenti più calmi la fissava come si contempla la dolce visione di una perduta felicità una sera camminava con lei per il villaggio quando la sua conversazione assunse un tono di maggior sconforto del solito il sole calava lentamente e il cammino per ritornare al castello li portò ad attraversare il cimitero dove riposavano le spoglie della contessa Rezinald sedette con Marcelli accanto alla tomba e strappando dei fiori selvatici dal tappeto arboso esclamò non siete ansiosa di raggiungere mia madre dolce fanciulla lei è andata nella terra dei beati nella terra dell'amore e del sole se siamo felici in questo mondo quale sarà la nostra felicità nell'altro vogliamo ad unire la nostra beatitudine alla sua e la misura della nostra gioia sarà colma nel pronunciare queste parole i suoi occhi scintillavano deliranti e la sua mano sembrava errare alla ricerca di un'arma Marcelli all'armata lo trascinò via da quel luogo e stringendogli la mano tra le sue lo condusse a casa dolcemente intanto il sole era tramontato facendo apparire in tutta la loro gioia le stelle della sera più luminosa di tutte splendeva la fatale stella occidentale la stella della nascita di Rezinald lui la osservò con orrore e la indicò a Marcellia la mano del cielo incombe esclamò dentro di sé e le orgogliose fortune dei dive nomi corrono verso la fine in quell'istante comparve all'orizzonte la torre cadente di Rudstein illuminata in pieno dal chiaro di luna ecco il luogo riprese il folle in cui si compirà un fatto di sangue e starò io a perpetrarlo ma non temete mia povera fanciulla aggiunse in tono piumite mentre gli occhi gli si riempivano di lacrime il vostro Rezinald non può farvi del male sarà forse dannato ma non colpevole di un delitto con queste parole raggiunse il castello e si gettò sul letto in preda all'ansia e all'inquietudine la notte svanì il mattino albeggiò sulle colline e portò con sé la rinnovata agitazione di Rezinald il giorno era tempestoso all'unisono con il suo spirito tormentato si era allontanato da Marcellia sin dallo spuntare del giorno e non le aveva detto quando sarebbe ritornato ma mentre lei sedeva al crepuscolo accanto alla finestra suonando sull'arpa la sua melodia veneziana preferita le porte a libro si spalancarono e apparve Rezinald aveva gli occhi rossi colmi della più profonda fatale follia e l'intero suo contegno sembrava insolitamente convulso non era un sogno esclamò io l'ho vista e ci ha fatto cenno di seguirla vista visto chi chiese Marcellia preoccupata da quella frenesia mia madre rispose il folle ascoltatemi vi ripeterò l'orribile accaduto mentre vagavo nella foresta mi si avvicinò una silfide dai cieli mostrandomi il volto di mia madre feci per raggiungerla ma fui trattenuto da un saggio che mi indicò la stella dell'ovest un tratto si udirono alte grida e la silfide assunse l'aspetto di un demonio la sua figura crebbe fino a un'altezza spaventosa e con sprettante derisione indicò voi sì voi mia Marcellia con rabbia vi spinse verso di me io vi afferrai vi uccisi e cupilamenti risuonarono nel vento di mezzanotte da un ossario si udì alta la voce dell'orribile astrologo il destino è compiuto e la vittima può ritirarsi con onore poi mi pare il chiaro fronte dei cieli si oscurò e fitti schizzi di sangue viscido e grumoso caddero a torrenti dalle oscure nubi d'occidente la stella screzzava al buio con la sua luce e il fantasma di mia madre mi fece di nuovo cenno di seguirla il folle quindi tacque e si precipitò angosciato fuori dall'appartamento Marcellia lo seguì e lo ritrovò in biblioteca chino contro lo zoccolo di legno in stato di trance delicatamente gli prese la mano tra le sue e lo condusse all'aria aperta girovagarono incuranti della tempesta che si apprestava finché non si ritrovarono ai piedi della torre di rudestein di colpo il folle si arrestò un orrido pensiero sembrò attraversargli la mente mentre con una stretta d'acciaio afferrava Marcellia tra le braccia e la che vi parla certo non vorrete farle del male lui la udiva ma non se ne curava e non una volta rallentò il passo finché non ebbero raggiunto la stanza della morte di colpo il suo atteggiamento si spogliò dell'impeto per assumere una veste composta ma ancor più spaventosa di sicura follia si diresse alla finestra e fissò l'aspetto turbinoso del cielo nubi oscure correvano all'orizzonte e in lontananza si udiva il cupo rimbombare dei tuoni ad ovest la stella fatale era ancora visibile ma splendeva di un chiarore malsano in quell'istante un lampo illuminò la dimora e gettò una luce rossastra sopra uno scheletro che si riduceva in polvere sul pavimento reginald lo osservò con spavento e si rammentò dell'astrologo lasciato insepolto avanzò verso Marcellia e indicando la luna sorgente una nube oscura sta per colpirla esclamò tremante ma prima che la sua orbita splenda nuovamente voi dovrete morire io vi accompagnerò nella morte e mano nella mano ci reccheremo al cospetto di nostra madre la povera ragazza urlando chiese pietà ma la sua voce si perse nel rabbioso delirio della tempesta intanto la nuvola correva si avvicinava offuscava la luna la oscurava e infine la seppellì nella sua tenebra il folle che aveva atteso quel momento si gettò con un urlo spaventoso sulla sua vittima fuori solutezza omicida la ferrò alla gola mentre la fanciulla con suoni strozzati e agitando la mano inerme implorava la sua compassione dopo uno spasmo fatale un rauco si ingulto annunciò che la vita era finita e che l'assassino teneva tra le braccia un cadavere ritrovata momentaneamente la ragione reginald scoprì di essere l'inconsapevole assassino di marcelia la follia di nuovo la più profonda follia si impadronì delle sue facoltà rise urlò con le strida di un demonio e nella rabbiosa violenza del proprio delirio si gettò giù dalla sommità della torre al mattino i corpi dei due giovani vennero scoperti e sepolti nella stessa tomba le fatali rovine di rudstein esistono ancora ma tutti le evitano quale residenza degli spiriti dei trapassati la torre si sgretola lentamente giorno dopo giorno rifugio per i corvi della notte e per le bestie selvagge delle foreste la superstizione la consacrata a se stessa e la tradizione del paese la messa in relazione con tutti gli spaventosi attributi di un ossario il viandante che passa al calare della notte rabbrividisce nel contemplare la profonda desolazione e proseguendo il cammino esclama per certo ecco un luogo in cui la colpa può fiorire al sicuro o la bigotteria ammaliare con un incantesimo i suoi traviati discepoli